Come si capisce dalle varie recensioni sui vari broker, carte e conti che porto sempre avanti sul canale, ogni volta che vedo o conosco un prodotto nuovo cerco di capirlo, analizzarlo e cercare di portarne una video recensione qui sul canale. Come si può facilmente intuire, questo è quello che in inglese si può definire come un ongoing process, un processo continuo, per cui quello che dico ora, il prossimo anno, magari fra sei mesi, potrebbe cambiare. A prescindere da tutto ciò, io utilizzo due broker per me. Uno è Directa, dove vado a fare un piano di accumulo per mio figlio. Invece per me, per i miei investimenti, utilizzo da tempo Saxo Bank. Da quando ho fatto la Joint Venture con Banca Generale Private è diventata a tutti gli effetti un broker a regime amministrato. Mi è stato chiesto più volte un tutorial ed oggi finalmente sono qui a portarlo, ma lo vediamo assieme subito dopo la sigla. Eccoci qui su una delle due piattaforme di Saxo Bank. In realtà sono due, appunto, non è una sola. Una si chiama Saxo Trader Go ed è indirizzata per lo più a persone che vogliono fare delle analisi un po' più specifiche all'interno di uno strumento ed ha molte più operazioni possibili da effettuare. Mentre la seconda, che vedremo subito dopo, si chiama Saxo Investor ed è per quelle persone che effettivamente, anche come me, vanno a fare poche operazioni e comunque ben definite e che per cui sono più o meno degli investitori a lunghissimo termine. La presentazione della piattaforma, come la vedete voi, è in nero, si può avere anche in bianco. Io preferisco farla così perché così vado a risparmiare anche dell'energia elettrica e non fa male né per noi né per l'ambiente. Qui, come potete vedere, sul lato sinistro abbiamo alcune delle mie posizioni, non sono tutte perché in basso abbiamo anche gli ETF, ne ho parlato, poi magari farò un video più approfondito sui miei investimenti più avanti nel tempo. Nella porzione in alto a sinistra abbiamo le watchlist di mercati. Ogni volta che si crea una watchlist tutte quante le azioni della watchlist vengono presentate qui con il book BDASK, la variazione, la variazione netta, l'aggiornamento e tutta una serie di dati che possono interessare. Queste colonne non sono obbligatorie, nel senso che cliccando su questi tre puntini si possono andare a rinominare la watchlist, eliminare la watchlist e gestire le colonne. Come in questo caso abbiamo una marea di dati che si possono aggiungere, è veramente una piattaforma interessantissima. Nel caso si vorresse creare una nuova watchlist basta cliccare su crea nuova, dare un nome, per esempio la chiamiamo Pasquale, poi la cancellerò e si possono aggiungere vari strumenti. Se per esempio questa watchlist di Pasquale voglia contenere solo le aziende da opzioni posso semplicemente andare per esempio a utilizzare Omega Healthcare che ha uno strumento di opzioni. Tra l'altro oltre ad offrirci il nome dell'azienda ci va a definire anche tutti quelli che sono gli strumenti EQ sta per equity, CFD ovviamente per CFD ma ovviamente possiamo anche andare a trovare anche delle opzioni come in questo caso. Quando EQ ha di fianco una Q come in questo caso, come vedete qui sulla sinistra, sono le opzioni sull'azione. Cliccando su opzioni andiamo a vedere quelle che sono le possibili opzioni call o put, il prezzo, qual è la scadenza andando a definirla nel tempo. Ad esempio se io volessi andare a vendere una call andiamo a vedere quanto è il mio premio incassato, se io volessi andare a fare questa opzione qual è il margine, l'impatto, la liquidità disponibile, gli interessi aperti, la tipologia di esercizio perché sapete che le opzioni possono essere americane e europee, qual è la dimensione del contratto, in questo caso centrazioni e così via. Eliminiamo questa watchlist perché? Perché oltre a eliminare le watchlist, oltre a creare watchlist che non vi faccio vedere perché quelle mie personali le vedete nel mio account Patreon o nella sezione dei abbonati YouTube, possiamo creare anche degli screener e questi ve li posso far vedere. Io ho creato degli screener per la Scandinavia, UK, alto dividendo da controllare, cioè sono aziende che devo approfondire, Canada e così via, per creare uno screener, come in questo caso creiamo un nuovo screener e per esempio lo possiamo andare a chiamare ETF ad accumulazione, salviamo lo screener e andiamo poi a filtrare tutto quello che ci interessa. Possiamo andare a cliccare per paesi, per mercati, per cui dove sono quotate queste aziende ce ne sono tantissimi, i settori se volessimo andare semplicemente a investire per tipologia di settore e anche per consenso di analisti possiamo anche andare a fare una valutazione di capitalizzazione di mercato, valutaria e se sono quotate sull'estrino principale oppure no. Ma non finisce qui per cui possiamo anche andare a fare uno screener aggiuntivo a quello che abbiamo fatto per l'analisi fondamentale, per cui andando a decidere per esempio qual è la percentuale di dividendo prezzo e l'EPS. In più abbiamo anche quello sulle performance, per cui performance settimanale, mensile, trimestrale, annuale, oppure possiamo rimpostare i filtri a zero. In questo caso andiamo ad eliminare questo screener. Infine qui abbiamo la sezione allarme, cioè andiamo a aggiungere degli allarmi dei prezzi, per cui quei avvisi che ci dicono quando un'azione è arrivato a un determinato prezzo o meno. Pliccando su aggiungi possiamo per esempio andare a cercare Google, azione A in questo caso perché quelle che mi interessano io voglio votare e possiamo decidere di portare qui la condizione se è maggiore o uguale o minore o uguale a un determinato prezzo. Per esempio in questo caso vorremmo andare a investire in Alphabet quando il prezzo è raggiunto di 2000 dollari o meno. Attivo, se si ripete nel tempo, per cui se questo prezzo va a ripetersi più di una volta vogliamo essere avvisati e poi quando è la scadenza di questo avviso. Potremmo semplicemente voler aspettare dieci giorni, un mese, oppure selezionando la data andare a selezionare anche l'anno, ad esempio nel 2030 a marzo, il 20 marzo del 2030, facendo applica. Se qui fino al 2030 la piattaforma ci avviserà se Alphabet ha raggiunto o no quel prezzo, eliminiamo anche questo allarme. Dal lato adesso invece vediamo tutto quello che è relativo alle azioni che possiamo porre su una posizione o su un'azienda. Abbiamo la panoramica dell'azienda, in questo caso ho messo Omega Healthcare. Possiamo vedere il grafico qui, in questo caso il grafico massimo, poi possiamo vedere il giornaliero, il settimanale, il mensile, il trimestrale e così via. Vediamolo da inizio anno. Facendo un tasto sinistro possiamo andare anche in impostazioni, andare a vedere sul grafico quale tipologia di disegno o indicatore vogliamo vedere apparire. In alto troviamo l'ISIN, la valuta, il bid e ask, il minimo e il massimo, l'intervallo di 52 settimane, qual è il volume, il rating, in questo caso è conservare il prezzo target degli analisti e gli strumenti che si possono utilizzare. Oltre all'equities possiamo fare CFD ed opzione su equity. Abbiamo poi l'analisi, quella che appunto andiamo a vedere qui, il rating. Tre analisti dicono che si può acquistare, uno soprappesare, nove conservare, uno sottopesare e così via. Il rendimento implicito è il prezzo target degli analisti. Andando poi su fondamentali possiamo vedere tutto quello che sono gli utili per azione, il prezzo degli utili, i dati finanziari negli ultimi tre anni. In realtà sono due più l'anno corrente per cui sono stimati. Possiamo andare anche a vedere qual è il rendimento da dividendi e qual è il payout ratio, in questo caso è altissimo. E poi il book di negoziazione, in questo caso il bid e ask che è di primo livello, non c'è il secondo livello perché quello è a pagamento. Il canno su grafici possiamo andare a definire il grafico che vogliamo vedere, la tipologia di strumento che vogliamo utilizzare. Io non faccio analisi tecnica però chi volesse fare analisi tecnica ovviamente può usare questo strumento in maniera più approfondita. E poi se l'azienda ha opzioni, cliccando su serie di opzioni appare tutta la catena che in questo momento è disponibile per questa particolare azienda. In basso poi abbiamo le nostre posizioni, queste sono le mie. Inoltre andiamo anche a vedere in base a questo tastino come sono le nostre esposizioni. Io ho azioni ed etf e quello che è il rendimento da azioni ed etf. Ovviamente avendo aggiunto gli etf di recente ed è anche un mese, sono quelli che sono in perdita col mercato volare di questi periodi, però le azioni come si può vedere hanno reso qualcosina. Poi abbiamo gli ordini, quelli che sono in corso. Io non ho ordini in corso perché faccio solo ingressi per mio interesse in un determinato momento senza andare a mettere degli ordini in macchina. Abbiamo lo storico degli ordini, possiamo anche andare a personalizzare l'intervallo e poi le posizioni chiuse. Il canno su qualunque posizione qui sul tasto I possiamo andare a definire qual è il prezzo di apertura, quando è stata aperta, la data della valuta e tutti i dati relativi a questa posizione. Se per esempio andassimo a fare un doppio clic su un strumento possiamo andare a vedere anche come andare ad agire su questa posizione o cliccando qui su aggiungi possiamo decidere di aggiungere uno stop loss o un take profit su tutta o parte delle azioni. Questa è una cosa che può interessare ovviamente chi fa trading o chi non vuole esporsi troppo a determinate perdite. Queste colonne poi sono tutte modificabili semplicemente cliccando sui tre puntini come per Watchlist o Screener anche in questo caso si possono andare a gestire i valori che si vogliono andare a vedere all'interno di ogni posizione. Ma non finisce qui perché questo è solo il menu contrattazione poi possiamo andare su ricerca per andare a vedere quelli che sono i manuali della piattaforma, alcuni segnali di trading che la piattaforma dà in maniera automatica per cui non sono dei veri e propri segnali di trading, un flusso di notizie costantemente aggiornato sui mercati, le analisi dei mercati degli analisti, il calendario economico che può essere personalizzato in base alla settimana, al giorno o al mese, può essere personalizzato in termini di paesi e anche di eventi macro, utili o dividendi semplicemente andando a cliccare qui. Poi abbiamo il menu azioni come si può vedere tutto quello che è il prevolversi del mercato e poi analisi e ricerca in cui vengono presentate appunto delle analisi da parte degli esperti. L'ultimo menu è quello del conto in cui si può andare a vedere quello che è il profitto, il portafoglio, quello che è il rendimento per ogni azione, la liquidità e la diversificazione del nostro portafoglio. Poi abbiamo la reportistica per cui possiamo andare a tirare fuori report sul portafoglio, sugli ordini, sulla lista movimenti, sui dati aggregati, tutto quello che i dividendi eccedono nel caso uno avesse anche delle obbligazioni e così via. Abbiamo un'analisi di profitto e perdite, del portafoglio totale in base a ogni tipologia di strumento, movimenti di liquidità e posizioni chiuse. Infine abbiamo le operazioni sul capitale in cui si viene andato a dire quando si andranno a devolvere le prossime operazioni di dividendo, quando sarà stata fatta la distribuzione del dividendo, il numero delle azioni di cui siamo in possesso e poi la scelta è effettuata perché come sapete in un dividendo potete scegliere che venga reinvestito oppure che venga distribuito in termini di nuove azioni comprate. Non ho fatto vedere qui il tasto performance in cui si può andare a valutare anche il vostro portafoglio come si andrà a comportare con i vari benchmark di riferimento. Qui in realtà non è da novembre perché il portafoglio è un paio d'anni vecchio ma qui calcola da quando ho trasferito tutti gli asset su questa piattaforma. Comunque da quando ho trasferito gli asset su questa piattaforma ho fatto lo meno 0,99% parche paragonato al meno 10% del Dow Jones, al meno 12% dello San Apple 500 e al meno 20 e mezzo del Nasdaq. Comunque sono molto contento perché la tipologia di portafoglio che volevo avere appunto è proprio questa, quello di un portafoglio che reggesse nel tempo le varie dinamiche. Questa è la piattaforma più complessa, quello da trader, però ne esiste un'altra che vi faccio vedere che è quella per gli investitori a lungo termine, la piattaforma Saxo Investor. Come si può vedere la piattaforma da investitore è molto più semplice, molto più scarna. Abbiamo come per l'altra, la Trader Go, tutto quello che è la situazione dei mercati, gli ordini, i report transazionali, i risultati, per cui tutta la parte di reportistiche è uguale. La differenza è che è molto più semplice perché viene presentato il nostro portafoglio, viene presentato uno strumento di ricerca in cui possiamo anche decidere se cercare su azioni, obbligazioni, ETF o fondi. Per cui cliccando su una determinata azienda possiamo andare a vedere come si evolve il suo prezzo, i suoi dati fondamentali, l'analisi degli esperti, ma non c'è tutta quella panoramica impressionantemente complessa per chi fa semplicemente investimenti a lungo termine. Per cui in questo caso, ad esempio andando a digitare Main Street Capital e andando ad aprirla, in questo caso potremmo decidere di acquistare a mercato o al limite il numero di azioni che vogliamo acquistare. Tra l'altro non vi ho detto che c'è anche questo simpatico calcolatore. Nel caso in cui voi voleste dire voglio investire 1000 euro o 1500 euro ma non so quante azioni siano perché l'azienda magari è quotata in dollari, semplicemente andando ad inserire l'importo in euro vi dirà che qui potete comprare 41 azioni. Il canno su acquistare, poi vi verrà detto qual è il costo della transazione, il prezzo limite al cui volete acquistare, la tipologia di operazione che state facendo in questo caso acquistare, il conto valore in US$, è tutto molto semplice. Ovviamente ogni azienda i propri fondamentali, l'analisi degli analisti, l'ISIN, il ticker, l'intervallo minimo a 52 settimane però non c'è tutta quella pappardella di bid ed ask perché ovviamente chi investe a lungo termine magari entra sempre a mercato nel momento in cui il suo alert è arrivato al prezzo che aveva deciso essere quello ottimale per il suo ingresso. Sul tastino mercati invece possiamo andare a vedere delle notizie relative ai mercati in generali, Europa, Nord America, Asia Pacific e poi qui in alto possiamo anche andare a modificare i prodotti. Ogni volta che si fa trading è richiesto la prima volta e poi ogni tot anni viene richiesto di fare dei test attitudinali per capire se si hanno le conoscenze necessarie per andare a operare in determinati strumenti. Abbiamo azioni, ETF, obbligazioni, ETF complessi, ETC, ETN, ovviamente io non ho fatto tutti i test. Obbligazioni, per quale motivo vengono richiesti questi test? Non vi si viene bloccato diciamo la contrattazione però ovviamente se una persona è consapevole di quello che sta facendo, ha fatto il test o l'ha fatto male perché non è a conoscenza degli strumenti, la piattaforma ogni volta va a dare un avviso per dire tu non hai superato questo test oppure tu non hai fatto questo test e per cui potresti essere non in grado di comprendere appieno quello che è lo strumento in cui sta andando ad operare. Mi sembra una cosa molto giusta da fare. Poi qui in alto abbiamo le stelline che vanno a definire quelle che sono le azioni che abbiamo nella nostra watchlist, gli strumenti di notifica, le varie informazioni che possiamo richiedere alla piattaforma in termini di manuali, i prodotti nuovi, il profilo commissionare che ognuno di noi ha, le due piattaforme, le videoguide e infine qui abbiamo l'accesso a tutto quello che è la reportistica e il nostro conto, il profilo finanziario. Ovviamente questi sono dati che ognuno ha i suoi per cui è inutile che li faccia vedere. Bene spero di aver fatto una panoramica piuttosto ampia e non troppo prolissa di quello che è la piattaforma. Adesso andiamo alla mia faccetta per le ultime considerazioni. Bene spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento se così fosse ti chiedo di lasciare semplicemente un bel pollice in su per me e anche per l'algoritmo di YouTube per farmi capire che apprezzi i miei contenuti e soprattutto fammi sapere anche con un commento qui sotto cosa ne pensi. Nella sezione dei commenti puoi anche lasciarmi degli spunti di riflessione da condividere con me e con tutta la community e se poi se no sul canale non puoi assolutamente perdere nessun video e per fare questo devi iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche. Bene anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!